Il Comune di Venezia ha un servizio formazione da diversi anni, diciamo almeno da 15 anni. Ha sempre creduto nella formazione del personale e ci sono stati nel tempo anche diversi fondi. Ovviamente dalla legge finanziaria a Tremonti in poi i fondi sono diminuiti, adesso noi ci troviamo ad operare con la scarsità di risorse che è comune agli altri enti. Diciamo che noi abbiamo fatto negli ultimi anni diversi interventi formativi e piani di formazione legati al contesto organizzativo, legati alla necessità di rilevare le criticità organizzative e di utilizzare la formazione per migliorare le situazioni. La legge 150 e il piano delle performance sono intervenuti e anche lì abbiamo cercato di lavorare per mettere assieme i processi formativi con l'esigenza di costruire un piano delle performance e di lavorare sul miglioramento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.